Sì, benvenuti in un nuovissimo video dell'Innalisti al Web Oggi, non a caso, ho questa sciarpa della Regina Calcio 1914 che ha compiuto pochi mesi fa appunto 116 anni di storia dunque è una delle società più vecchie d'Italia mi sembra nel ranking di importanza per titoli, presenza in A, piazzamenti, tifoserie, città, stadio è la trentesima su 50 dunque, niente, oggi appunto clamoroso la Lega Pro con a capo il presidente Ghirelli appunto che già all'inizio aveva dato queste idee, questa possibilità poi ne parleremo della quarta promossa in B intanto ce ne sono tre ufficiali che erano le tre dei campionati, dei gironi le tre prime capoliste dei gironi cioè Monza, Vicenza e Regina tre squadre che hanno comunque storia in B la Regina secondo me insieme al Vicenza è quella che ha fatto più presenza in B Monza comunque ne aveva già fatte per il Monza comunque in questi anni è stato un periodo un po' anche per la Regina un periodo di ricostruzione visto con il cambio di società per ambe le due società opposte in Italia appunto una nel profondo nord e una nell'altra nel profondo sud ma con tatti aspetti vicini secondo me soprattutto nei residenti a Monza io secondo me trovo molti più tifosi a Monza della Regina che tifosi del Monza però vabbè lasciamo stare volevo parlare appunto la Regina dopo sette anni se non sbaglio sette anni allora io mi ricordo l'ultima stagione che mi ricordo della Regina in B se non sbaglio è stata la 13-14 poi è scesa in C è fallita cioè era in bancarotta in fallimento l'ha ricomprata si è fatta un anno in D poi è ritornata in C e niente è tornata in C appunto comprata l'anno scorso quasi un'annetta e mezzo fa dal presidente Gallo che non aveva ancora squadre nel campionato italiano è un presidente a capo di una holding molto importante nel risanamento di aziende in fallimento dunque lui ha fatto la stessa cosa che faceva con aziende magari che ne so con aziende che si occupavano di produrre plastica che si occupavano di produrre ferro con una squadra con una società che al sud in Calabria in Calabria sicuramente è la storia più grande sia a livello di partecipazione sia nel campionato massimo che nel campionato cadetto anche come bacino di stadio anche come città rappresentando la città appunto più grande di quella zona comunque ritorna in serie B dopo tanto tempo appunto insieme a Monza anche che non ci andava da anni e al al Vicenza che era anche lui in B fino a 3-4 anni fa dunque tre squadre comunque storiche tornano in B il problema è per la quarta perché nel nella campionato di serie C formato tre gironi e la venti squadre dalla seconda alla decima posizione di ogni girone prima ci sono scontri interni tra gironi per esempio dalla seconda alla decima del girone A si scontrano e si decide si decide appunto tipo la seconda va con l'ultima l'ottava con la settima così gli accompagnati poi ne dovrebbero uscire tre se non sbaglio si fanno incastri tipo semifinale quarti di finale quarti di finale semifinale semifinale finale playoff di solito va sempre una squadra del girone C che è quella con squadra di più rilevanza storica per tifoseria anche per piazze molto importanti storiche adesso mi vengono in mente Catania Bari Catanzaro anche se non è in B non torno in B da 15 anni però è stato molti anni in A poi c'è la Ternana una squadra abituata alla B l'anno scorso c'era il Trapani la Juve Stabia comunque quelle squadre lì invece invece si opta per una non ci saranno più partite della C della stagione 19-20 si chiude ma con una cosa che secondo me è abbastanza grottesca e vi spiegherò anche il perché in B ci va il Carpi dopo l'esperienza in A di 3-4 anni fa è risceso subito però è una favola comunque una città di una città di 20.000 abitanti o poco più o poco meno che fa se non sbaglio ha fatto D C C C B B A e poi è tornato giù comunque una favola e poi ha fatto A B C era una delle squadre se non sbaglio più in forma del suo girone anche se devo dire che c'è da dire una cosa è stata decisa la quarta in base alla media punti ponderata compiuta in questa 27 giornate 28 giornate di campionato forse 30 era forse 30 ma ne mancavano 8 ed era finito settimana scorsa 25 solo il problema secondo me è che bisogna considerare adesso vi vado a leggere le squadre nel girone di ognuna e infatti ci sono delle escluse clamorose per esempio stavo per dire sto pensando al Bari con una società dietro che voleva tornare a puntare subito a tornare ai massimi livelli del calcio italiano aveva anche un progetto molto oneroso nel senso che aveva speso molti soldi la piazza era tornata a riempire lo stadio comunque il San Nicola secondo me nel meridione è lo stadio migliore che c'è che ci sia anche meglio del San Paolo c'è stata una finale di Champions al San Nicola anche c'è stato il mondiale al San Nicola dunque comunque una piazza molto importante 30 apparizioni nel massimo campionato una delle scuole del sud insieme a Napoli Palermo più rappresentative più tifate vi leggo appunto che tra l'altro però una partita in meno il Carpi non era neanche sì poteva esserlo potenzialmente anzi poteva ancora arrivare primo però il problema è che era terzo con una partita in meno a 53 punti e si è calcolata appunto la media punti che era del 2,30 qualcosa dunque per questo è riuscito ad andare in B a discapito di alcune squadre che avevano fatto di veramente pochi millesimi in meno di lui per esempio mi sembra la Carrarese se non sbaglio è la Carrarese che comunque bisogna dire che in caso di playoff secchi magari la Carrarese vinceva quello del gruppo A il Carpi vinceva quello del gruppo B però poi lo vinceva il Bari tecnicamente che era comunque una squadra che se non fosse stata per l'inizio avrebbe dato lotta fino alla fine alla regina secondo me magari avrebbe acceso di più la corsa al campionato invece si è rovinato un po' all'inizio ha perso terreno e non è mai riuscito a colmare il gap per questo io penso che comunque il Bari sia la quarta squadra che doveva salire per importanza non per merito ma bisogna considerare che comunque la media puntiva fatta contro avversari di livello la fatti contro avversari di livello se contiamo i punti il Carpi ne ha 53 su 26 giornate il Bari ne ha 60 su 30 giornate e vi leggo anche le squadre che ha affrontato il Carpi il Carpi aveva la Reggiana il Sud Tirol Feralpi Salò Padova Piacenza Modena Triestina Fermana San Benedettese Virtus Cos'è questa la Virtus Verona il Cesena il Gubbio il Pesaro il Ravenna l'Imolese l'Arzignano il Fano e il Rimini squadre comunque da C con una storia da C e poche squadre con una storia da B mi viene in mente il Modena mi viene in mente il Padova poi basta un po' la Reggiana la Reggiana sicuramente poi il resto sono tutte squadre comunque forse un po' il Piacenza però si è persa negli anni la Triestina ma stiamo parlando di tantissimi anni fa poi guardate Fermana San Benedettese tutte squadre comunque di basso livello se vediamo il girone del Bari comunque c'è il Bari in sé che comunque come storia anche squadra secondo me è il più forte del Carpi poi vabbè c'è la Reggina che era più 9 poi c'era il Monopoli che era la sorpresa della 5 quest'anno correva più di tutti Potenza anche grande squadra Ternana Catania Catanzaro Teramo Avellino Francavilla Vibonese Viterbese Casertana Cavese Paganese Bisceglie Rende Calcio Rieti comunque tutte squadre che avevano una tradizione e comunque non è un mio parere ma molti addetti a lavori comunque pensano che il girone più forte più competitivo sia quello del Sud sia perché se fate caso tutti gli anni salgono sempre come quarta dai playoff sempre squadre del Sud l'anno scorso è stato il 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 trapani due anni fa se non sbaglio il cosenza tipo il cosenza mi sembra perché il livello è maggiore al Sud ma perché al Nord secondo me le più grandi società al Nord sono in serie A e serie B e tolgono spazio alle società più piccole che non riescono ad avere tifosi dunque stadio non lo riempiono dunque hanno meno incassi più sono più in realtà piccole invece al Sud magari ci sono meno soldi però città più importanti dunque magari investitori maggiori magari quella città ti offre più possibilità c'è un'altra tifosi maggiore dunque si spendono più soldi e secondo me è quello il perché le squadre al Sud sono più competitive dunque questo è il mio parere sono contento che la regina sia salita sono contento a capire il Vicenza che comunque è una squadra che mi è sempre mi ha sempre affascinato anche quando ero in B mi ricordo da piccolo me la ricordo e il Carpi che comunque ritorna in B la quarta volta che torna in B dunque non è neanche sta squadra con una storia incredibile il Bari e il Carpi peccato poi di Bari mi dà soddisfazione perché all'inizio il Bari doveva essere la sfera top poi sotto c'era Catania Eternana e poi la regina che era la mina vagante invece la regina ha stracciato tutti dalla A alla Z ed è andato in B il progetto promette bene si promettono nuovi colpi in casa da regina tra l'altro a centrocampo si parlava di Viola del Benevento appunto un ritorno a in casa diciamo dei due centrocampisti Missiroi e Barilla perché come ha detto il presidente è anche il DS Taibi ex portiere anche del Manchester United tra l'altro l'obiettivo è tornare in Serie A appunto lui risana azienda in fallimento l'ha presa l'ha ribonificata gli farà lo stadio nuovo come Elliot con il Milan però con più successo la riporterà in Serie A la cercherà di farla restare in Serie A qualche anno e niente poi arriverà qualcuno vedrà il progetto e la comprerà tipo Bologna io vi saluto Porta Regina e bella ragazzi grazie